Provincia di Arezzo e Comune di Cavriglia hanno firmato un protocollo di intesa per il sostegno alla nuova imprenditorialità e la creazione di impresa. A sottoscrivere l'accordo sono stati l'assessore provinciale al lavoro Carla Borghesi e il vice sindaco di Cavriglia Marco Roschi. Il Comune Valdarnese, promotore del centro servizi e incubatore di imprese già attivo da qualche anno e con notevoli competenze professionali in questo campo, mentre la provincia eroga, attraverso la rete dei centri per l'impiego, anche servizi di orientamento per la creazione di impresa. Con la firma del protocollo si attiveranno adesso sperimentazioni congiunte tra i due enti per la promozione e l'assistenza dell'auto imprenditorialità, con l'attivazione di uno sportello di orientamento presso la sede del centro servizi e incubatore di impresa di Cavriglia nella zona industriale di Bomba, con cadenza settimanale e accesso su appuntamento. Gli utenti interessati avranno la possibilità, durante il colloquio con un consulente, di focalizzare la propria idea per valutarne la portata imprenditoriale, di analizzarne le caratteristiche e le dinamiche sul mercato e di identificare le condizioni preliminari per il suo sviluppo in funzione della sua concretezza e della sua perseguibilità. La sperimentazione terminerà il 31 dicembre 2013 e durante questo periodo non ci saranno costi né per l'utenza che si rivolgerà allo sportello.